Con un accordo sottoscritto fra Regione, Uncem e Anci, si estende l'esperienza toscana degli sportelli Ecco Fatto, i nuovi punti di erogazione di servizi aperti nei territori montani o disagiati da Regione e Comuni, utilizzando i giovani del servizio civile. Noi abbiamo inventato questo sportello a rete sul territorio che garantirà tutta una serie di servizi regionali, comunali e io direi anche nazionali come poste, proprio per dare delle risposte ai cittadini. È un'esperienza che parte in 10 comuni, si estenderà di qui all'estate in altri 35 e vediamo se diventa un modello di riferimento per la Toscana e per l'Italia. Perché non è così, non è un'esercitazione filosofica, sono servizi nuovi, aggiuntivi, in qualche caso sostitutivi, che si danno in territori dove c'è rimasto purtroppo poco o niente in termini di servizi generali. I punti a cofatto sono collocati nelle sedi di Comuni e delle associazioni. Per il reclutamento dei giovani da impiegare nel nuovo servizio, sono stati riservati 70 posti nel prossimo bando del servizio civile regionale.